Dottor Claudio Pecci, una serata importante a cui Mappei contribuisce da sempre vicino al ciclismo? Certamente, Mappei è uscito dal ciclismo nel 2003 per le note vicissitudini, ma dottor Squinzi ha il ciclismo nell'anima, nel cuore, fino in fondo e quindi quando può e può sostenere questo movimento sicuramente lo fa. Poi quando ci sono questi eventi lui incontra quelli che chiama i suoi corridori, per cui è felice. Noi come Mappei Sport continuiamo questa attività, seguendo i nuovi atleti, le nuove figure emergenti, ma anche noi molto felici di continuare a trovare corridori che sono passati da noi e che hanno fatto carriera. Oppure direttori sportivi come Luca Guercilena, Davide Bramatti, abbiamo avuto l'altro giorno una felice sorpresa, ci è venuto a trovare Cancellara, perché insomma ci siamo sempre.